Le acque del torrente penestrelle in base dalla schiuma. Questa volta le immagini girate con un telefonino sabato nel primo pomeriggio non riguardano il transito del fiume tra Prata e Tufo, ma un passaggio tra Cupamacchia e Contrada e Infornata ad Avellino, area già nota per il continuo sversamento di rifiuti sulle sponde del torrente. La schiuma, evidentemente prodotta da scarichi abusivi spinta dalla corrente, segue il corso d'acqua e si ristagna nelle insenature del letto del fiume, un preoccupante segnale di degrado ambientale e aggressione al territorio in una delle zone più suggestive del capologo a pochi metri dal centro abitato di Avellino. Alcuni abitanti ci parlano della presenza di sostanze inquinanti venute a galla anche nel tratto del torrente che scorre da Monteforte e Pino lungo via Molinelle. Tra i cittadini c'è chi invita istituzioni e forze dell'ordine ad alzare l'attenzione sul livello di inquinamento che si registra dal tempo nella zona. Sbocchi e scarichi sospetti che vomitano veleni nel penestrelle in attesa dell'esito delle analisi annunciate dall'ARPAC l'intesa con il comune di Avellino. Tessi a tracciare la diagnosi del torrente che transita anche nella valle dei Molini, un'oasi che negli anni è diventata una discarica a cielo aperto.